Domenica positiva per il calcio provinciale, almeno in eccellenza. La biellese espugna Novarello con un secco 3-1, risultato prezioso che permette ai bianconeri di ricucire a meno 3 dal vertice della classifica. Tra le risaie di Granozzo, stesso avversario e stesso risultato di mercoledì sera in Coppa. La Pronovara, seppur dotata di un collettivo di assoluto valore, non ha ancora la solidità e le certezze di Pavane e compagni. Nahmad e Marra mettono la partita in ghiaccio dopo 24 minuti. Il talentuoso numero 10 fa quello che sa fare meglio, puntare l'uomo e segnare. Il suo tiro non è potentissimo, ma velenoso abbastanza per sbloccare la partita. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un corner e il gol alla Marra è ormai diventato ufficialmente uno schema. Angolo battuto lungo, dove il forte numero 7 raccoglie il pallone e infila il portiere. Era già successo contro Cossato e Agrivil, tale quale. La Pro costruisce qualche brivido dalle parti di Rusu, ma nulla di clamoroso. Nella ripresa, l'eterno Bertani risponde presente. Un cross spiovente da sinistra trova il 42enne Bomber, ex di Novara e Sampdoria, pronto e lesto ad accompagnare la palla in rete. La gara si riapre ma solo per qualche giro d'orologio. Facchetti inventa sulla sinistra, Marra rifinisce il cross che porta il gol, il primo in bianco-nero, di Jamal Idrissi, preciso nell'infilare a fil di palo. C'è ancora tempo per un bel intervento di Rusu, in grande spolvero, sull'attaccante novarese Bachirov. Se la Bielese recupera punti dal volpiano pianese capolista, è anche merito del Cossato, che allo stadio Abate costringe i torinesi al primo passo quasi falso della stagione. I Blues, peraltro in emergenza, mancavano Cantone, Bernardo e Bottopoala, alla mezz'ora del primo tempo battono un 1-2 micidiale, grazie allo splendido gol di Maruca e al raddoppio di Curatolo. Il potenziale offensivo del volpiano, 4 gol di media nel primo mese di stagione, è clamoroso. Già prima dell'intervallo, Bomber Bruno e quindi il mediano della Valle siglano il pari, che non si sbloccherà poi nella ripresa. Il Cossato rimane ultimo da solo, ma è decisamente un risultato che fa morale e che può aiutare a svoltare la stagione. In promozione festeggia solo la Valdilana Biogliese, che a Vallemosso conquistano 1-0 dal peso specifico enorme contro il fanalino di coda Ferriolo. Di Lorenzo, su rigore, la rete che vale oro, in ottica salvezza. Cadono tutte le altre, la Fulgor Valdengo cede in casa alla Juve Domo. Il vantaggio di sicurtà è vanificato dai gol di Ferrera e di Yeboa nel finale. Stesso risultato della Chiavazzese, che sul sintetico rionale soccombe alla Dufur Varallo. Botalla porta in vantaggio i suoi nel primo tempo, ma negli ultimi dieci minuti i valsesiani la ribaltano grazie a una doppietta di battaglia. Nel recupero, la Chiavazzese rimane ancora in dieci per la doppia munizione di Botalla. Il penultimo posto pesa. L'impresa, di briga di domenica scorsa, non ha rivoluzionato la situazione. A Verrone, il Ciaversama cade 2-0 contro la Rona. Un gol per tempo di Giordani e Rognone su rigore. I gialloblu sono rimasti in nove per più di metà gara a causa della doppia espulsione combinata a Capacchione e Ciraulo, nella parapiglia suscitato dopo il fallo subito dallo stesso Capacchione.